Direttore, cosa cambia con questo nuovo bando della regione per la promozione per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara? Certamente questo è uno strumento molto importante perché consente all'Abruzzo di avere finalmente uno strumento in linea con quello che fanno tutta una serie di altri territori e che si rivolge con degli obiettivi specifici di mercati di apporto e di modalità evidentemente di incentivazione che dovrebbero consentire l'ampliamento delle destinazioni servite e degli operatori che operano all'interno dell'aeroporto. Un bando importante per la crescita ulteriore dello scalo pescarese? Certamente, noi dobbiamo ancora raggiungere un livello che ci consenta di poter dire di aver raggiunto quel punto di equilibrio di break-even che normalmente si inserisce tra i 700 mila e un milione dipende dalla complessità dell'aeroporto evidentemente. Quindi noi auspichiamo come previsto nel nostro piano industriale di riuscire a raggiungere anche con questo bando questi obiettivi. Questo grazie anche alle nuove rotte che avete inserito negli ultimi mesi? Sì, certamente il lavoro continua e l'aeroporto lo deve svolgere evidentemente. Ci sono delle nuove rotte, dobbiamo consolidare quanto è stato fatto in questi anni evidentemente di continuare con sicurezza e certezza e c'è una regola che vale per gli aeroporti. Più si vola, più si è incentivati a volare perché evidentemente tutti si accorgono che è interessante volare in Abruzzo.